Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Ex-Husband, un film di Noah Pritzker che abbiamo qua il piacere di accogliere, benvenuto. Allora, regista e sceneggiatore anche. Il suo film è stato selezionato nella sezione fuori concorso ed è un'anteprima italiana. È una produzione statunitense e in coproduzione con la società messicana Piemienta. Il film ha avuto la prima mondiale al Festival internazionale di cinema di San Sebastiano in settembre, dove era selezionato in concorso ufficiale e poi ha partecipato a diversi altri festival e anche in Europa e in Messico. Vede la partecipazione di Griffin Dunn, che ha anche partecipato alla produzione del film, e poi ci sono altri attori, James Norton, Miles Heizer, Rosanna Arquette e Richard Benjamin. E io volevo fare un paio di domande a Noah e poi passare la parola. Questo è il suo secondo lungometraggio, dopo Quitters nel 2015, e è la storia quindi di una relazione tra padri e figli in un momento di crisi. È una commedia, al tempo stesso è molto toccante e gentile. Io volevo capire anche questa tensione, perché di fatto non si sa bene come andranno avanti queste relazioni, se è stato difficile trovare degli attori che riuscissero a tenere insieme commedia, tensione, affetto e unità familiare. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. In questo evento risposto dirmi tenere alla 81, essa presentazione di Gryfini. Un ragazzo non rendita, grazie a tutti, grazie a tutti. Ma ci sono parecchi, anche ragazza a debba con lui e tutto gli diversi. Gemmi passare avanti della gara, grazie a tutti. Alla fine, non abbiamo presso di Gryfinisi ci prenduto il film 앞에 sc elaborate, ma Kind manage da quasi Askia di Gryfinisi quelli sc000ze ebbene danno aug peerne. È più importante, sai equipare avanti su�di postulani con la grand thinke di chiresto. Ho conosciuto Peter e trovare il personaggio che interpretasse il ruolo di Peter ha richiesto effettivamente un po' di tempo e poi grazie al produttore, ad uno dei miei produttori ho conosciuto Griffin e l'ho trovato assolutamente perfetto per interpretare questo ruolo che richiedeva una dose di comicità, umorismo ma anche di tenerezza e sensibilità quindi conosciuto Griffin ho pensato che fosse davvero perfetto per il ruolo anche perché fa molte cose strane, bizzarre ma è anche credibile nel momento in cui le fa quindi anche il mio direttore del casting lo conosceva da tanto tempo e ci siamo messi al lavoro ma poi è arrivato il Covid e quindi abbiamo avuto moltissimo tempo per lavorare al personaggio Anche questo volevo capire perché lei l'ha scritto prima, poi c'è stato il Covid e poi l'ha girato mi chiedevo anche se l'atmosfera del film sia riuscita anche perché c'era un entusiasmo di tornare a lavorare Was it such a successful experience on set? Also because everybody was enthusiastic of going back to work? Yes, I think, well when I first met Griffin and started talking about this movie that's how I got to know him and then Covid happened and it was unclear if we would ever get to make any movie ever again but we stayed in touch and kind of became friends throughout Covid, just you know I think each were lonely in our own ways so I would talk on the phone and fantasize about someday making the movie and then when we got back to it it felt like a dream not just to go get to make the movie but get to go make a movie that was on location and where we were all kind of meeting a new group of friends on location in Mexico and Tulum and back in New York City and I think everyone it was really the best experience I've had on set I think everyone was just really grateful to be back on a film set at that point and to be getting to work again that it brought a huge boost in energy I think to what we were doing Sì, sicuramente questa è la verità quando ho conosciuto Griffin infatti ci siamo messi a parlare tantissimo del film poi è arrivato il Covid e a quel punto ci siamo detti caspita forse non riusciremo a girare questo film e forse non riusciremo più a girare alcun film quindi nel corso del Covid Griffin ed io siamo diventati praticamente amici ci parlavamo molto spesso insieme al telefono e cominciavamo a usare la nostra fantasia e immaginazione per pensare a come sarebbe stato se fosse possibile girare il film e grazie a Dio la realizzazione del film è stata possibile e soprattutto abbiamo potuto girarla on location quindi siamo potuti andare in Messico a Tulum, girare a New York è stata un'esperienza davvero fantastica e si è formato un nuovo gruppo di amici che appunto ha lavorato molto molto bene insieme l'esperienza sul set è stata straordinaria e forse proprio il poter tornare a lavorare ci ha dato ancora più energia un boost ancora più forte lei nel film riesce a far sì che degli uomini tra loro parlino di cose molto intime e questo accade tra maschi e tra adulti e giovani volevo chiederle se è qualcosa che ha conosciuto lei o se pensa che sia qualcosa che ad oggi è più possibile incontrare rispetto a tempi addietro è più possibile che questo a passare a passare in effetti be the past. I grew up one of three sons. I was the middle of three boys. So it was a very male family. And my older brother and I were always very close and shared a lot of friends. And I don't know. It's hard for me to compare it to previous generations because I only know what I know. But I do think, you know, amongst my peers it felt much more comfortable and encouraged to be vulnerable and talk about our struggles. And so that part came very naturally to me. I think getting to see Griffin grapple with it, it was interesting to see how much fun he had getting to play a character who could speak so candidly with his children, which he said was a very new experience for him. And so I think that maybe the intergenerational dialogue is something that feels more possible now. I think maybe we were always more comfortable with our close friends being intimate and sharing what we're going through. But I think sharing that with another generation is maybe a greater challenge. Teleaksi Yo sono cresciuto in una famiglia molto maschile perché siamo tre figli maschi e io sono quello di mezzo. Con mio fratello maggiore c'è sempre stato un rapporto davvero molto molto buono e condividiamo anche lo stesso gruppo di amici. Non so come sia stata la situazione in termini di dialogo fra le precedenti generazioni, posso soltanto paragonare quella che è la mia esperienza. Devo dire che tra noi giovani ragazzi parlare delle nostre situazioni, delle nostre difficoltà anche a livello intimo è abbastanza naturale. Con Griffin effettivamente è stato talmente bravo e credibile nella sua parte che riusciva a parlare in maniera talmente onesta, sincera e trasparente con i propri figli che lui ci ha anche detto è un'esperienza nuova per me, non pensavo di poterlo fare. Quindi questo dimostra che il dialogo intragenerazionale è possibile, sebbene magari nella nostra generazione lo facciamo più con gli amici, si può fare anche con chi è più grande di noi, se mai è un po' più una sfida. Scusate, volevo aggiungere che credo che una delle tensioni e delle scuole di humor nel film è che queste bambine vogliono di essere conosciuti dal suo padre, ma non vogliono di spiegare a loro. e il discorso di Griffin, Peter, è un dino, quindi ha bisogno di accettarlo molto explico. E quindi credo che questo è parte di come questi bambini stanno cercando di abbiare loro. E volevo solo aggiungere che appunto le tensioni che si creano all'interno della famiglia, tra il padre e i figli, sono appunto quelle di essere conosciuti dal loro padre senza dover spiegare esattamente che cosa sta succedendo. Quindi vorrebbero senza dare alcuna spiegazione che lui riuscisse subito a cogliere quali sono le difficoltà. Invece Peter è un po' un dinosauro in questo senso e ha bisogno invece che tutto venga spiegato in maniera chiara. Ci sono domande? Sì, si sente, prova. Buongiorno, Pietro Torchia, CineDams. In realtà è una domanda abbastanza banale, però volevo chiedere quali sono le influenze che l'hanno portata alla creazione di questo film, perché la storia della commedia americana è una storia molto bella, molto lunga, quindi volevo chiedere se ci sono delle influenze di vari maestri, perché io ho visto un po' di Woody Allen, Bogdanovich, anche Nuo Bambach tra i più recenti, quindi questa, grazie. Scusami, la domanda la puoi ripetere? Le influenze sostanzialmente che l'hanno portato alla realizzazione di questo film, tra i registi e i sceneggiatori, grazie. 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 But Alexander Payne is somebody who I always resonated with growing up and watching his films. Woody Allen is an obvious huge influence. And Noah Baumbach, more than just sharing a first name with him, reflects this sort of New York sensibility. And I guess those would be a handful that come to the top of mind. Perhaps i maestri che mi hanno influenzato di più sono quelli che si sono occupati di commedia in ambito ebraico e sicuramente una citazione che è anche presente nel film e che è stata un'ispirazione è il film Essere o non Essere di Lubitsch. Quando ho lavorato il mio primo lungometraggio le mie influenze principali sono state quelle di Lars von Triers e Todd Salman. Ma nel scrivere questo film ho pensato di metterci un po' più di grinta rispetto al primo lavoro oltre che dare risalto alle cifre comiche e la tenerezza che i personaggi dimostrano nell'interpretare i loro personaggi. Per quanto riguarda le influenze più dirette dei cineasti americani sicuramente posso parlare di Alexander Payne che è stata una grande fonte di ispirazione che ammiro molto, mi piace, Woody Allen ovviamente e Noah Baumbach con cui oltre a condividere il nome c'è proprio tutta la scena new yorkese che mi piace molto del suo lavoro. Io volevo chiederle una cosa rispetto a un senso un po' di riconciliazione che c'è con i limiti degli altri alla fine del film. Si esce che ci si potrebbe dire forse che se uno si riconcilia con i limiti degli altri e con i propri riesce a vivere meglio. Era anche un po' questo che voleva comunicare? Ok. Yeah. I love that interpretation. And I think there is a hopeful, you know, these characters are all kind of going through their own struggles and in conflict with each other. and yet I do feel by the end of the movie there is some sense of them being willing to move forward as a family which I think ironically means moving forward more in their own directions independent of each other so I think there's something bittersweet about that, that coming to peace requires some separation and I think how you said it you may have said it more elegantly than I did and I think that the message of the film at the end of the end is just that to nourish hope within the family area, despite the difficulties, despite the conflicts, despite the problematies I think that at the end of the film is just this the sense and the meaning that each person can give that each person is a little pacific with the other and will continue to move forward and will continue to move forward in the same direction, so for example there is a little bit agrodolce but for a little bit of peace for certain times there is a little bit of separation a little bit of distance, but my interpretation is very much There are other questions? I would like to ask you a little bit more about this place, Tulum, which we don't know absolutely, which seems to be a place both of spirituality and great fun a little bit magical, I don't know I had been there, it has a long history 30, 40 years ago it was this untouched, unspoiled, pristine beach that was not too far from Cancun which is a more famous spring break party destination, especially for American tourists and I don't know what the Italian equivalent would be but it's kind of become this place that has this superficial facade of spirituality and yoga but then has also become this party destination for American and European tourists and so there's something very odd about it, that people are there to relax and do yoga and then also to party and dance to EDM music until the sun comes up and it also has all the complications of Mexico and being now a place in Mexico that a lot of American and European tourists are traveling to party and I just felt like there was something sort of strange about it that worked perfectly for my movie that it doesn't quite know what it wants to be which is kind of how I feel my characters are at the moment, we're finding them in the film and it ended up being a really great place to work Mexico was really great to shoot there and the cast was excited to go but there were some things like the beaches, you know you really feel the environmental decay in Tulum the beaches are covered in sargasm which is seaweed and you know you really feel climate change there in a really intense way which was sort of interesting to introduce to you know these characters trying to go enjoy paradise and camp for all sorts of reasons I was living in Tulum a little while ago and 30-40 years ago this place, this place, this place gode was really the fame of being a place very beautiful with empty beaches and white water cristallina un luogo intoccato dalla modernità diciamo così e non troppo lontano da Cancun questo faceva sì che per i turisti americani fosse anche abbastanza comodo e facile da raggiungere anche a breve distanza quindi questo luogo mi piaceva perché è un po' come i miei personaggi dove c'è una facciata di grande amore per il rilassamento per una situazione di spiritualità di yoga ma anche dove ti puoi divertire fino all'alba dove puoi bere dove puoi appunto ballare al ritmo della musica idm e fare festa insomma quindi questa complicazione che e questo contrasto che c'è tra il luogo reale e quello invece di facciata che è un po' quello che vedo anche nei miei personaggi mi è piaciuto tantissimo senza citare il fatto che comunque stavamo girando all'interno del del messico dove conosciamo le complessità che si incontrano quindi è una località che non sa che cosa vuole essere se vuole essere appunto il luogo della spiritualità oppure essere la località turistica per i turisti americani e europei tuttavia a girare lì si è rivelato un'esperienza molto molto bella il cast è stato molto felice di poter lavorare in messico a tulum e dimostra ancora una volta questa località quelli che sono i difetti di questi posti turistici perché sono un po' abbandonati c'è un po' di decadimento la spiaggia abbandonata a se stessa tutte queste alghe sulla spiaggia quindi è proprio un luogo che è toccato anche dal cambiamento climatico non è il paradiso che vuole sembrare io volevo chiederle anche questo sguardo che lei ha molto gentile sull'uomo mi chiedevo anche se era un po' rispetto ai carichi che la società gli richiede cioè se c'era un po' uno sguardo gentile rispetto al fatto che forse questi questi uomini gli si chiedono troppe cose rispetto a quelle che sono le loro nature eventualmente questi uomini in film sono necessari di fare molto più di quello che potrebbero offrire e questo è questo motivo hai questo molto gentile glanzo in loro e guarda loro sì, credo che il carattore di James Norton in particolare actor umwasi,you know, given a lot as a as a kid he was very handsome and told he was very smart and exceptional uman intendo to achieve a lot and I think as he's grown older he's turned out to be somewhat uh no maybe mediocre is to harsh of a word but but normal or average in spite of all of those things and I think he has this sort of you know in the movie he jokes che ha una doppia depressione. Credo che ha anche una depressione hostile dove è così risentoso di tutti gli attori. E credo che questo è per le aspettazioni che hanno messo sull'interno. Lodare le sue capacità straordinarie dicendo tu sei un ragazzo geniale, tu sei un bambino geniale. Quindi questo è stato sicuramente un carico che si è portato sulle spalle, soprattutto crescendo e diventando adulto poi si è ritrovato nei panni di questa persona diciamo mediocre, forse un termine troppo forte, ma comunque normale. E quindi tra l'altro lui stesso gioca e scherza su questo aspetto dicendo ma io soffro di una doppia depressione. Quindi ha maturato una specie di ostilità nei confronti di tutte queste aspettative così elevate che si nutrivano per lui. Ci sono domande? Volevo ricollegarmi al fatto che appunto nel nucleo familiare ci si concentri principalmente sulle figure maschili. Quindi volevo chiedere se ci fosse stata una figura femminile come protagonista o tra le protagoniste sarebbe cambiato il senso del film oppure questa scelta di inserire solo figure maschili è semplicemente una scelta autobiografica perché appunto ho detto che ha vissuto in mezzo a uomini nella famiglia. Grazie. Would that have changed the course of the film? Have you ever thought of the doing something like that? and instead is it something that you decided head on from start that given your family origins that you're all males you wanted to focus on that aspect? It's a good question. I came at it with these characters in mind as a story about fathers and sons and about the dissolution of each of their relationships. And so you know I think each story can only do so much and so this to me was really a story about a father and his sons. A story about a mother and her sons. I'm sure there are a million great movies there but it would have to be a very different one than this one. And you know I also saw this you know what this is inspired by from the point of view of my mother. So maybe one day I'll be ready to tackle that but I might need I might need some more time. It's a good question. But I can say that the story from the beginning was focused on the family and the relationship between the father and the children, especially on the disillusionment that these relationships have created. probably would have been able to do a film with a mother with a child's children, but there are already many films that face this topic. And anyway, it would have been like this film. It would have been like this film, not like this film. Sono stato ispirato tanto anche dal rapporto con mia madre, però non sono ancora pronto per girare una storia su questo, magari in un secondo momento più avanti nella mia carriera. Ma si rimane figli finché sono in vita i genitori? To remain a kid or a child until your parents are alive? It's possible. I have two living parents, so I'm very lucky. And I've moved 3000 miles away from home to try and become a man. But I don't know, I can't quite speak to it because I haven't been through it yet. But it does make some, it makes some sense to me as an adage. Beh, forse sì, è probabile, non lo posso dire perché entrambi i miei genitori sono vivi, tuttavia mi sono trasferito a 3000 miglia di distanza da loro proprio per cercare di diventare un uomo adulto. Quindi non so ancora come poter rispondere a questa domanda, però effettivamente il senso potrebbe essere quello. Senta, no, io le faccio un'ultima domanda che c'entra poco col film, ma siccome lei viene dall'altra parte dell'oceano, forse ci può dire qualcosa di più su questo sciopero e sulle conseguenze che ha avuto, per capire un po' di più da vicino che cosa è successo. You know, you're focused on the movie, but since you come from the US, maybe you can tell us something about the striker that has occurred and its consequences. Yeah, it's been, I think, a long time coming and overdue, and I was, I was lucky with my movie in some ways because it was an independent film that I was able to have a interim agreement, so my cast was able to come with me to the first few festivals to promote the movie. But between the two strikes for the last however many months, it's been sort of a double whammy because I haven't been able to get hired to write and then the scripts I have written that I was, you know, or the things I would like to go do next, I couldn't share with actors. And so, you know, it was a quiet, challenging time, but I think everyone felt like it was critical that it happened, that everyone felt like the landscape, especially with streaming, had changed so much that writers and actors were not getting a fair deal. and so it felt like it had reached an inflection point where it was kind of now or never, that something really had to change. And I haven't, I haven't dove into the agreement with the actors yet, so I don't, I don't fully know where it's landed, but it seems like at least a much better agreement for everyone, for writers and for actors. Well, this was something that we knew that it was supposed to happen, it was in the area for a long time and so it was supposed to happen. I was fortunate with my film because it was a independent production, so I had an agreement with the cast and the troupe, and I didn't have any problems. However, there were still many obstacles to overcome, I was put on the work between one and the other, and I didn't have been assigned to the things that I had written, and I couldn't share with the actors that I had selected what I had written. So, it was definitely a moment of stasis, that was absolutely difficult and difficult. Despite these difficulties, this was certainly an action that had to be taken into consideration, especially since the platforms of streaming that have brought up to the changes, that were really revolutionary and not just for everyone who worked in the cinema and televisive. There were no agreements that were equi, so we arrived at a situation where we were where we were now, or we were never more, because otherwise we will not be able to achieve changes that are absolutely indispensabili. I have not yet had a way to talk with the actors, but I have to say that the conditions of work seem to be better both for the actors as well as for the actors. as well as for the actors. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We have a nasty question. Yes. We are… … … … … Grazie a tutti.